Dici perché un pitbull non va bene? Un pitbull? Non va bene, voglio due cani, voglio grandi, voglio Rottovaila, voglio Navano. Ma perché i cani? Perché tua madre parla, parla, sempre con questi social che lei guadagna con Aydin. Ebbè? E quello e quello. Non lo deve dire, la gente è invidiosa. Poi dopo, magari ci fanno un danno e entrano dentro casa. Ah, madonna. Sì. Duomila telecamere, il perimetrale, il perometro, il perometro, il gabbiole. Non basta, non basta. La gente è invidiosa e quindi poi dopo ci fanno i danni a noi. E io compro due cani, uno per i ladri e uno per i cartoni. A me la smetti e testaci.